Ciao a tutti, oggi inizia un nuovo gioco di logica, mettiamo il nome, Gennaro, età 39. Sono pronto, sono pronto, vediamo, vediamo. Allora, facciamo logica di matematica. Allora, risolvere questi problemi logici non c'è tempo, non c'è fretta, questo gioco serve a stimolare il cervello. Ok? Va bene, risposta sì. Se hai bisogno di aiuto, puoi chiedere un suggerimento su questo pulsante. Ogni suggerimento costa due monetine. Ok, questo altro pulsante serve per conoscere la soluzione. Oggi ogni suggerimento alla soluzione costa due monetine. Inizia o sì? Vai. Allora, vediamo come funziona questo. Quindi, allora, questo è 3 perché sarà 6 diviso 2 uguale 3, 15 diviso 5 uguale 3, 9 diviso 3 uguale 3, qua sarà 21. Ma che fai? Hai visto? Risposta corretta. Livello successivo, 1, 3, 5, 7, 9, 11 sarà risposta corretta. Eh, vabbè. Eh, vabbè, vedi? La stella più quadrato uguale 7. Doppio cerchio meno stella uguale 1. Cerchio più quadrato uguale 6. La stella a quanto è uguale? Stiamo dicendo. Stella più quadrato uguale 7. Doppio cerchio meno stella uguale 1. Cerchio più quadrato uguale 6. Ok? La stella a quanto è uguale? Se questo... Allora, vediamo la logica. Sarà 3. Forse. Grande! Allora, vediamo quest'altra logica. 6 per 4 è 24. Quindi, questo è 2 per 5 è uguale 10. 12 per 20 è uguale a 240. Giusto? Bravissimo! Allora, poi vediamo che è questo. Questo è... Eh, bisogna... Bisogna avere un filo logico. Se allora... Se allora... Ta ta ta... Ta ta ta... Allora... Ros... Rosso... Ma... Verde, blu, giallo... Verde, blu, giallo, rosso... La sequenza è sempre quella. Quindi metterò per primo... Allora... Ta... Si sposta... Per quanto si sposta qua? Ci manca una sequenza, ci manca. Quindi... Allora, faccio... Blu... Ma chi è questo? Eh, blu... Poi... E... Blu... Qua blu. C'è il primo blu. C'è il primo blu. E... Poi... E... 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 Giallo... Verdo... E rosso... La risposta è sbagliata. Se il blu inizia qua... Di conseguenza tutti gli altri vanno di là. Quindi... Blu... E... Qua ci manca il blu. Qua... Vediamo che ci manca. Qua è il blu. Qua ci manca... Il giallo. Qua ci manca il rosso. E qua ci manca il verde. La risposta è esatta. Esatto. Hai visto? Vabbè... Pubblicità. Un po' di... Un po' di... Un po' di... 2 per 6... Uguale a 12. 12 per 3... Uguale a 36. 4 per 36... Allora... Fa... 144. Grande! Mamma mia! 2... 5... 11... 23... 47. E mo' qua? Ah... Forse perché... Il numero dopo. Quindi... 47 più 48... Fa... 95. Grande! Grandissimo! Ricompensa. Raccogli monete. È una moneta di chip. Quindi mo' chip. Allora... 3... E 4. E' un po'? Grande!